Covid-19, in Sicilia crescono ancora i positivi, Palermo e Catania appaiati 2.000 casi, Siracusa con 965 casi. Sono 8.739 i nuovi casi registrati a fronte dei 30.958 tamponi processati nell'isola, secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.920, il tasso di positività sale al 28%, il giorno precedente era al 24%. La regione è al quinto posto per contagi, gli attuali positivi sono 120.660 con un aumento di 6.895 casi. I guariti sono 2.980, mentre 18 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.267. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 979, anche oggi 16 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 33, 3 in meno rispetto al giorno prima. I dati di contagio registrati a livello provinciale, Palermo 2.272, Catania 2.303, Messina 1.404, Siracusa 965, Agrigento 880, Ragusa 696, Trapani 690, Caltanissetta 470, Enna 213. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.